Pescarese riparte dalle montagne abruzzese di Rivisondoli, Zeman Landi ha piantato le tende nella capitale, la società ha puntato le sue fisce su Giovanni Stroppa che in Liga Pro ha rubato gli occhi con il su Tirol. Allievo di Sacchi, Zeman e Capello, il tecnico di Mulazzano, pronto a dare la sua impronta al Delfino. Io cerco di allenare la squadra, cercare di imporre il gioco, poi vedremo se saremo in grado di poterlo fare oppure no, però sicuramente sarà una squadra organizzata che cercherà di concedere poco all'avversario. Ha resettato Zeman Landi, ha tanti interpreti, sono andati via, su quale basi rinasce il nuovo Pescara Griffato Stroppa? Beh, sui ragazzi che sono rimasti innanzitutto che hanno portato questa squadra in questa categoria. Acquistati Bjarnson, Ciosic, ha bruscato Colucci e Chiaretti, in arrivo il nazionale cileno Carlos Munoz, punta del Colo Colo. È un giocatore che può fare la seconda punta, può fare l'esterno, può fare la prima punta, un giocatore veloce, che ha abilità da sudamericano. Fatta per il Parmense Modesto, chiesto greco alla Roma e Giandonato, alla Juve, Pedinati, Quintero, Rosenberg e Celic. Quasi tutto straniero il Pescara, che dopo l'addio ad Insigne Immobile perde anche Verratti. Martedì firmerà per il Paris Saint-Germain nessun volo pindarico, stroppa detta l'obiettivo. Salvarsi all'ultimo secondo dell'ultimo minuto, dell'ultima giornata di campionato.